Allora eccoci, buongiorno Giorgio Tamburlini, siamo qua oggi 29 marzo 2020, siamo in periodo di diciamo reclusione forzata perché per evitare contagi da coronavirus siamo un po' tutti obbligati a rimanere nelle nostre abitazioni e quindi ci colleghiamo online. Allora due regole del gioco per questa intervista, il primo che ci diamo del tuo, abbiamo già iniziato, la seconda che siamo assolutamente consapevoli ciascuno del ruolo dell'altro, io sono un genitore, tu dall'altra parte sei un medico e adesso ci racconterai. Giorgio, una breve presentazione su di te, medico o pediatra? Io ti ho presentato così, dimmi se è giusto. Sì sì, sono medico pediatra e ho fatto un lavoro clinico all'ospedale Burlo Garofalo per tanti anni, però ho cominciato presto a occuparmi anche di programmi per bambini e famiglie sia di salute sia più recentemente anche sul piano educativo e quindi adesso sostanzialmente sono responsabile di una onlus, anche se ormai non si chiameranno più così, che è il centro per la salute del bambino, abbastanza noto per il lavoro fatto con Nati per Legger, Nati per la Musica e più recentemente con i Villaggi, che è un progetto con i bambini che crea spazi e tempi dove i genitori e i bambini possono stare assieme, accompagnati e facilitati da educatori per imparare, se posso dire così, delle cose che poi possono portare a casa, fra queste sempre la lettura, la musica, il gioco, ma anche il piccolo orto, come fare degli oggetti con quello che si trova in casa, insomma un sacco di attività che creano relazione e stimola anche un po' la crescita e lo sviluppo del bambino su più dimensioni. Aggiungo Giorgio un ruolo anche tuo di consulente, dato anche l'esperienza sia clinica sia fuori poi su questi progetti, anche per le varie istituzioni, in questo momento sei impegnato anche con l'Italia per gestire l'emergenza coronavirus e l'impatto che potrebbe avere potenzialmente sulle famiglie e sui bambini? Sì, dunque come centro facciamo parte di questa alleanza per l'infanzia che si è costituita poco meno di un anno fa e che comprende sia esperti e persone che insomma si sono occupate e studiano queste cose da un punto di vista proprio anche accademico, di ricerca e poi tutti gli attori, sostanzialmente tutti o quasi gli attori che si occupano dell'infanzia sia come territorio principale di intervento sia perché fa parte in generale del loro campo di azione, mi riferisco dai sindacati ma alle ONG grandi e piccole, alle associazioni dei genitori eccetera. Quindi adesso stiamo ovviamente mobilitati per far circolare informazioni e adesso per cercare di confezionare una sorta di decreto bambini, possiamo chiamarlo così, per fare in modo che il prossimo decreto del governo sull'emergenza che dovrebbe essere più centrato sugli aspetti sociali abbia proprio un'attenzione ai bambini e in particolare a bambini che vivono situazioni di particolari difficoltà. Quindi tra l'altro apriamo proprio oggi, domani, una specie di consultazione con tutti quanti che siano associazioni o singoli hanno qualche proposta concreta da fare rispetto a un problema specifico perché poi noi contiamo di fare presente questo nelle sedi governative parlamentari con cui siamo già in contatto. Volentieri considera le famiglie di Fed Stroke, quindi questa fondazione che raggiunge circa un migliaio di famiglie in Italia, che soprattutto si occupa di problemi legati alla fragilità, perché parliamo di bambini con parecerebrale infantile, volentieri supportiamo, perché quello che stiamo vedendo, lo citavamo prima, prima di iniziare questa intervista, è che in questo periodo magari le situazioni di particolare fragilità aumentano, è come se si amplificassero, no? Quindi chi stava bene magari sta anche molto meglio adesso, chi stava male sta molto male, sta peggio adesso. Quindi è così? È quello che vedi anche tu? Beh sì, diciamo che c'è una combinazione di opportunità e crisi e difficoltà che magari possono anche coesistere perché io ho chiamato questo tempo del coronavirus come anche un tempo prezioso perché magari moltissime famiglie trovano un tempo che prima non c'era e delle modalità che prima non c'erano per interagire e fare tutta una serie di cose piacevoli, belle, interessanti. Devono passare più tempo insieme, questo sicuramente. Sì, però è vero che anche qui ci vogliono delle risorse personali, a volte anche delle risorse tecnologiche, anzi direi sempre o quasi per trarre il massimo beneficio diciamo da quello che pur nella crisi ci viene offerto come opportunità ed è vero che chi era in difficoltà prima per vari motivi che vanno dalle situazioni familiari complicate alle disabilità, ma per non parlare poi dei bambini non accompagnati che adesso non arrivano più o quasi, ma insomma qualcuno arriva perché io sono al confine orientale e qui continuano ad arrivare anche dei rifugiati via terra e è chiaro che queste difficoltà vengono spesso esacerbate e solo qualche volta affrontate in modo adeguato perché poi sappiamo come servizi non sempre riescono ad essere presenti, va costruita tutta un'esperienza di intervento a distanza che prima non c'era, vanno risolte le questioni legate alla sicurezza degli spostamenti ma anche dei contatti quando eventualmente ci sono delle cose da ricapitare a domicilio e così via insomma. Noi in questo periodo la prima cosa che abbiamo fatto con le nostre famiglie è stato proprio fare questo, cioè mappare i bisogni, capire effettivamente loro di cosa avevano bisogno, sono emerse sia cose molto pratiche, cioè ho bisogno di qualcuno che mi dia uno spazio, un giardino fuori per far uscire il mio figlio, ho bisogno di qualcuno che mi vada a fare la spesa, che mi pulisca casa, quindi esigenze molto pratiche invece ad esigenze che riguardano più la sfera personale intima ma anche più allargata familiare, tanto che qualcuno ci ha proprio detto vorrei qualcuno che ci facesse distrarre un po', qualcuno che ad esempio ci aiutasse a leggere un libro insieme, anche perché molte famiglie vivono questo periodo come un periodo in cui coltivare risorse, imparare qualcosa di nuovo ma insegnare anche qualcosa di nuovo ai bambini, quindi su questo volevo collegarmi un po' a quello che so che il tuo ambito di lavoro è al tema grande della Norturing Care e di quanto effettivamente predisporre queste risorse e avere un ambiente arricchito fin dalla primissima infanzia possa poi aiutare anche le famiglie, direi tutte le famiglie, ma forse tanto più chi viene da un pregresso, una situazione pregressa di difficoltà fin dall'inizio, fin dalla nascita. Sì, come tu sai negli ultimi anni con particolare forza da parte in particolare delle organizzazioni internazionali che si occupano di infanzia, l'UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma tanti altri, anche organizzazioni professionali, fra cui quelle pediatriche, hanno insistito molto sull'importanza di quello che accade nei primi anni di vita e in particolare su quello che accade anche all'interno delle famiglie, dei luoghi dove i bambini nascono e crescono, sottolineando quanto sia importante quella combinazione di opportunità di crescere dal punto di vista cognitivo, delle capacità pratiche, manuali, motori eccetera, con quella che è l'ambiente della relazione, perché non si impara senza relazione e la relazione comunque ti plasma nel tuo rapporto con te stesso e con gli altri, quindi queste che state chiamate le cure che nutrono, Nurturing Care comprende sia questa componente affettiva emotiva sia la componente poi istruttiva se vogliamo chiamarla così e se vogliamo fare l'esempio più semplice che mi viene anche più facile visto quello che abbiamo fatto negli ultimi vent'anni con nati per leggere, leggere assieme che sia parole o anche solo figure o magari un libro con i simboli o anche un libro tattile, tutte queste cose che fortunatamente l'editoria ci offre è un'esperienza che assieme, un'esperienza che serve al cervello del bambino che cresce, serve a tutta una serie di sue competenze sensoriali, motorie, cognitive eccetera, ma ovviamente è anche un momento di condivisione di vicinanza affettiva, di contatto fisico e eventualmente poi di gioco, se pensiamo alla musica di attività motoria che sicuramente è molto opportuna soprattutto di questi tempi dove ci viene segnalato che i bambini di attività motoria ne fanno sempre meno e quindi poi si constata che non sanno più fare le capriole, saltare la corda, ma questo ovviamente riguarda tutti i bambini a maggior ragione poi i bambini che hanno delle difficoltà ad esempio al movimento e che tuttavia mantengono ovviamente come tu pensai anche però delle aree di espressione anche motoria che possono essere opportunamente stimolate e rese possibili. Su questo Giorgio tu hai anche un'esperienza di anni all'interno di terapie intensive neonatali, ti viene in mente qualche esempio di in cui questa relazione, questa alleanza genitore bambino è poi riuscita nel tempo a colmare quel gap che il bambino aveva accumulato alla nascita perché era stata una nascita difficile che quindi aveva anche separato la mamma dal bambino per un certo periodo, nella tua storia o in quello che sono le evidenze scientifiche? Ci sono studi che dicono che magari uno stesso bambino all'interno di ambienti relazionali diversi poi si comporta in maniera diversa e cresce in maniera diversa? Sì, allora io non sono mai stato tranne un periodo, ma tutto sommato non molto lungo della mia attività clinica, un intensivista neonatale, però mi sono occupato di neonati sia normali che premature ad esempio e abbiamo definito via via tutta una serie di interventi sia per le nostre latitudini che per altri paesi e forse il più importante intervento che abbiamo contribuito a sviluppare è stato quello noto come il mare di canguro, il pelle a pelle e che ovviamente come credo molti sappiano consiste nel mettere in condizione il prematuro appena stabilizzato, ma di la verità qualcuno lo fa anche con i prematuri ancora legati a cateteri e ventilatori e in una situazione di prossimità fisica se è possibile proprio diciamo fare i segni della mamma perché poi quando si può questo ovviamente facilita anche l'allattamento per i neonati che hanno acquisito questa competenza. Noi sappiamo che questa vicinanza, secondotta per molte ore al giorno, facilita lo sviluppo del bambino prematuro, lo rende più facilmente dimissibile e autonomo, ma soprattutto crea nel genitore una dimestichezza con il bambino prematuro che altrimenti viene visto come una cosa molto fragile e di cui si ha anche paura di occuparsi crea nel genitore una dimestichezza che poi lo facilita molto quando il bambino torna a casa perché non dimentichiamo che anche bambini che hanno avuto e tuttora hanno delle difficoltà o dei problemi specifici che ovviamente richiedono delle cure mediche hanno bisogno anche di altro, cioè hanno bisogno di quelle cure che nutrono, che si occupano di loro in quanto bambini in toto e non solo in quanto bambino che ha quel problema polmonare, un progetto di cura. Eh sì. Questo è un tema, è toccato un tema che per noi è molto forte, molto vicino, fa parte davvero dell'esperienza di tutte le famiglie. Siamo diventati espertissimi tutti noi genitori nel somministrare medicine, nel cambiare terapia. Però abbiamo allontanato forse ancora di più quello che è la relazione, tanto che vediamo dei bambini anche più grandi in età, quindi non più neonati, che però vengono accuditi come se fossero ancora dei neonati e che quindi hanno loro stessi una zona di comfort molto ampia che non li espone poi invece agli errori, a quello che è la vita, all'esperienza. E quindi niente, adesso insomma pian piano si sta creando questa consapevolezza che i bambini che hanno qualche problema in più dal punto di vista medico hanno le stesse esigenze di tutti gli altri e magari anche di più di avere delle interazioni il più ricche e anche il più normali possibili. E quindi la relazione non può essere tutta mangiata dall'attenzione all'aspetto medico. Questo vale per il genitore, vale ancora di più per il bambino. Su questo, per ricollegarci anche a quello che dicevi prima sul tema della lettura, che significato ha la lettura ad alta voce? Ha un significato particolare nella relazione con il bambino o attiva dei circuiti diversi? Quindi chi legge insieme, chi legge ad alta voce in famiglia, chi ascolta audiolibri può essere un'alternativa? Beh sì, questo è innanzitutto e molto semplicemente è una modalità per facilitare una relazione, no? Perché se uno legge, legge a un altro e l'altro ascolta e quindi c'è una relazione fra i due. Dopodiché, e questa è la base, questa è la cosa più importante, il fatto che si crea una relazione fisica, affettiva, di attenzione, condivisa, eccetera, eccetera. Dopodiché, ovviamente, il modo con cui si legge e quindi se è un modo che non è unidirezionale, no? Ma come si dice dialogico, in cui si lascia spazio al bambino man mano che cresce, man mano che ne ha le competenze di interagire, che cos'è questo e adesso cosa succederà, ma ti ricordi come si chiama questo qui, ma cos'è questa figura, cosa ci vedi? Insomma, adesso, questa è la lettura dialogica che è quella che ovviamente esprime o fa esprimere di più. Poi ci sono i contenuti specifici e anche questi dipendono ovviamente dall'età, ma insomma dall'anno in poi, poi ci sono anche le emozioni rappresentate nelle storie. dare una parola, dare un nome alle emozioni aiuta a riconoscere in se stessi e negli altri e quindi più avanti a controllarle, diciamo, controllarle che non significa sopprimerle, ma anzi valorizzarle, ma saperle riconoscere e così via. Quindi c'è, diciamo che non c'è una singola, e poi per non parlare della memoria e dell'attenzione, non c'è una singola funzione cerebrale maggiore, mentale maggiore, che non sia stimolata dalla lettura e dalla lettura condivisa quando si è piccoli. Ci sono i neuroscienziati che hanno studiato questo e ci sono un paio di gruppi, ad esempio negli Stati Uniti con cui siamo anche in contatto, che studiano gli effetti a lettura sul cervello anche con delle macchine speciali per cui si può vedere effettivamente cosa succede ed è impressionante vedere quante aree cerebrali sono messe in attivazione e quali siano poi, anche qui con delle tecniche abbastanza sofisticate, quali siano poi le relazioni fra queste diverse aree che vengono messe in funzione. e questo è una cosa che rafforza proprio i singoli, diciamo rafforza le vie, moltiplica i binari, non so come dire, moltiplica i binari lungo i quali corrono le informazioni e di fatto rende la mente più sveglia, più pronta e più ricca ed è abbastanza impressionante. Tra l'altro alcune di queste ricerche hanno fatto vedere al contrario, viceversa, che il bambino che sta molte ore, troppe ore davanti a uno schermo da solo e impoverisce invece queste vie, queste funzioni. Sì, quindi la lettura le accresce e lo stare fermi davanti a uno schermo senza che nessuno interagisca con noi, ma guardando in modo più o meno passivo delle immagini ottiene l'effetto opposto. Ma questo direi che vale un po' per tutto quello che è l'apprendimento o in maniera più attiva o passiva, no? E quindi dovremmo tenerlo presente tanto più in questi giorni dove le occasioni di stare di fronte a un monitor per la lezione o per parlare con gli amici sicuramente si moltiplicano. Io chiuderei con quello che invece è un tuo consiglio su attività che ci possono permettere in questo periodo di cogliere veramente l'opportunità di stare insieme. Abbiamo parlato di lettura, abbiamo parlato di musica. C'è qualcosa, qualche consiglio che ti senti dare per un testo in particolare, per i genitori o per i mammi? No, dunque testi in particolare no, perché fortunatamente l'Italia, ma non solo l'Italia, ma in modo particolare l'Italia ha una produzione editoriale ricchissima e posso semplicemente consigliare di visitare il nostro sito Atti per Leggere e anche il nostro sito CSB Onlus, cioè il Centro per la Salute del Bambino Onlus, perché lì ci si trovano tutta una serie di consigli sui libri, sulle attività da fare. Abbiamo anche molto recentemente emesso dei consigli, anche specifici per questi tempi. Però il consiglio trasversale era quello di farsi venire anche delle idee, cioè di ad esempio farsi venire delle idee, tirar fuori la vecchia cassetta delle fotografie, guardare assieme l'Atlante geografico per scoprire i posti anche in relazione a quello che magari accade adesso, non buttare via nulla di quello che proprio non deve essere necessariamente buttato e usare le cose che abitualmente scartiamo per costruirci delle cose, immaginare tutto quello che può diventare un tubo di plastica o una scatoletta di cartone e così via. Perché la cosa bella che ai bambini piace molto è anche quella di inventare la sorpresa, le cose che sono in qualche modo inusuali e non conosciute. Vero, questo ci aiuta magari anche nel riprendere delle routine, perché quello che capita adesso è che i ritmi siano un po' tutti sballati, quindi magari il riprendere routine, il momento in cui facciamo qualcosa insieme, lavoriamo col cartone, piuttosto che guardiamo insieme l'album delle foto, possono rappresentare di nuovo dei momenti nell'arco della giornata che mi sembra che i bambini abbiano bisogno. I bambini hanno assolutamente bisogno delle routine, hanno bisogno, sembrerebbe contraddittorio, sia dell'innovazione, della cosa strana e inusitata, ma sia anche di avere un aggancio preciso, ovviamente a delle figure, la mamma, il papà, insomma le figure di riferimento, ma anche a delle routine. A quell'ora lì si fa quello, in quell'angolo lì si legge, cioè ci devono essere anche dei riferimenti, perché è solo con i riferimenti sicuri che poi uno ha anche la curiosità e il coraggio, diciamo così, di avventurarsi fuori. Verissimo, bellissimo, mi sembra la chiusura migliore in questo momento. Ti ringraziamo per la disponibilità, Giorgio davvero conta sul potenziale, sulla disponibilità delle famiglie, quindi. Sì, guarda, ti farò avere il contatto per eventualmente inviarci le vostre osservazioni e proposte. Volentieri, intanto teniamo sott'occhio il vostro sito. Grazie. Ancora e buon lavoro. Ciao, ciao.